Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Un grande saluto affettuoso a tutti i miei amici italiani. Quindi vi dedicherò in italiano questa volta, visto che tanti si sono lamentati che i miei video sono sempre in inglese, la storia delle origini della traviata. Beh, intanto cerchiamo di capire che cosa significa la traviata. Io che ho cantato la traviata, ad esempio, non mi sono subito resa conto del significato italiano che in verità viene da traviare. La traviata, l'anima traviata, l'anima persa, l'anima dannata, l'anima peccatrice, perché, insomma, stiamo parlando di una cortigiana. La vera storia è che la traviata è veramente esistita. Allora, ovvero, la storia è questa. Giuseppe Verdi si è ispirato a una novella di Alexandre de Ma, figlio, La signora delle cameglie, un libro molto gradevole che vi consiglio di leggere, molto bello, per delle belle serate rilassanti, piccolino, bello, scorrevole. In questa storia, in questa novella, la protagonista viene chiamata Marguerite de Gautier, ma il vero nome è Marie-Louise de Plessis, veramente esistita a Parigi, molto conosciuta, pare che fosse molto bella e molto corteggiata. E fu, appunto, l'amante dello scrittore, come vuole la storia, insomma, Alexandre de Ma, figlio. Fu anche amante di Liszt. E lei stessa sapeva suonare il pianoforte e cantava, aveva studiato canto. Quindi, insomma, una cosa degna di nota, visto che era una cortigiana. Perché la signora delle cameglie? Perché questo nome? Perché, in effetti, qualche giorno al mese, portava una cameglia, una cameglia rossa, per segnalare ai propri, diciamo, amanti, clienti, che in quei giorni, insomma, diciamo, non era disponibile. Ci siamo capiti. Già nel 1852 questa novella venne trasformata in un pezzo teatrale, era presentato e nel 1853, il 6 di marzo, verrà eseguita per la prima volta al Teatro dell'Opera La Fenice di Venezia. E fu un incredibile fiasco, perché il tema, l'argomento, era scabroso per quei tempi. Beh, Giuseppe Verdi non si dette per vinto e un anno dopo diresse lui stesso l'opera, con un grande successo, invece, un successo che dura sino ad oggi e un successo che fu coronato, forse, da una delle violette valerie, insomma, più ricordate della storia dell'opera, ovvero Maria Callas nel 1955 al Teatro alla Scala di Milano, con la direzione del grande maestro Carlo Maria Giulini e diretta come regia dal grande Lucchino Visconti. E Lucchino Visconti diceva, beh, dopo la Callas, insomma, veramente ha lasciato una tale impronta che tutte le violette saranno Violette Maria, in effetti forse aveva anche ragione. Tanto per ricordare, come Alfredo c'era Giuseppe Di Stefano e come Germont Ettore Bastianini. Insomma, questa cortigiana veramente esistita, molto conosciuta a quei tempi a Parigi, morì a 23 anni di tubercolosi, come è anche narrato proprio nell'opera di Giuseppe Verdi ed è sepolta al cimitero di Montmartre. E quando morì ci fu una grande asta e tutta la città, le nobile donne accorsero e veramente si, insomma, tuffarono, come posso dire, sugli averi di questa ragazza, perché c'era questa curiosità morbosa di capire, vedere come una cortigiana vivesse e di fatti dei suoi beni non è rimasto assolutamente nulla. Però, però, l'è rimasta nella storia perché comunque, benché avesse vissuto una vita così breve, è rimasta immortalata nella novella di Alexandre Dumas La signora delle cameglie ed è rimasta immortalata per sempre nella meravigliosa musica di Giuseppe Verdi La Traviata. Se questa storia vi è interessato e vi capita di passare per Parigi, potete veramente visitare al cimitero di Montmartre la tomba, trovare la tomba e la lapide con scritto Alfonsine Plessis. Questa è lei e con questa storia per oggi vi saluto, vi lascio, spero che l'abbiate gradita e ci rivediamo presto per un'altra storia interessante. A tutti un grande saluto dall'Italia e un bacio da Capussin. Arrivederci e grazie per l'ascolto.